E pescava, diciamo quello che si poteva pescare, però c'era un difetto, se trovo un paese di spazio da cavallo, è quello che è sempre, io andavo a mare, prima a prendere a mare, avevo lavato tutta l'ecca che c'era qui sotto, la montagna e la caccia della mecomia che mi vedevo, montagna e la caccia, prenderemo a spammare, come saperemo, nella sacchettina di cimali, perché uno senza piccolo, dell'età, a gioventù, non si può stare, agli a rubare, prenderemo a buscare le cimali, e me ne va a pescare. O pigliavo le pulpe, o pigliavo le violette, o pigliavo il palangolo, o pigliavo i moreni, e pigliavo il cristalaco, insomma una vita, diciamo, per me era buona, però era male, era sempre invalido, e la regione, sia il sindaco, sia tutta, mi passava la vista, diceva, è buono, è meglio, non dava niente, ma come non dava niente, se ci faccio vedere questa cosa, come non dava niente. Ma che discussione vuoi fare? E' da andare a pescare, cosa ha detto, veniva dalla Francia, e mi seguiva la rita, la Francia, la sera, veniva a seguire la rita, una volta solo, che era un bel levio, che calava, e c'era la rita, sempre la rita, e mi dice, senta lei, e io la stavo a sbattere, senta lei, veniva a tagliere, che cosa volete, veniva a tagliere, che cosa ha detto, che cosa volete. a chi ha detto, vai, che mi prende, come su, tutto cagnato, e poi ci veniva a tagliare, e che si vede a prendere il stipendio, ma che discussione sono queste? Non posso stare a dita, io ci metterò un'antica a dita, prenderla a spavare, e poi ci veniva a tagliare, pure la sera, verso luna, alluna, alluna, se lei ne fa una cortesia, se posso farci, la faccio pure un quattro, io pesci un'acqua, non ho ne ho prenduto niente, se lei come vuoi rinunciare a tagliare al litro, non è solo il quattro, se lei, ora vieni, aspettate, a me vedete che è veniva, io, luogo ignorante che ci aveva dato, come mi avevano tutta l'aiglia, non ci metteva l'erba, e poi faccio scoglie scuole, e rinunciò, come a dire, se ne era, se ne era, se ne era, e poi non c'era lì, tutta l'aiglia, tutta l'aiglia non prendiamo un pesce, tutta l'aiglia, una volta sapete che significa tutt'anno attraverso la rete e se non ci passa non ci prende perché accalava la rete e attraverso tutto si arroccava sotto le scuaglie e lavava e lavava e mi veniva tutto con un po' di cenetta veniva la legge lei sta bene perché io non sono spiato quale è il problema? quando eravamo alla fossa noi ci siamo a questa banna c'è una zona della fossa quando veniva la finanza e poi la vendiamo il documento ma come la fai che c'è l'acqua perché c'è sempre per la moda e poi c'è il documento e poi c'è il documento e poi c'è il documento e poi c'è la moda dicevo lo sapevo io lo sapevo cosa fare guarda c'è il capo è andato a dire e non andiamo c'è la casa e i piccini non ce l'hanno mangiato è tutta la finanza che discussione mi facete con la macchina e poi c'è la danna a morire di fame e ho raccontato i 40 anni da lì che ci posso contare che queste cose raccontate la cosa posso ricordare tutte queste cose allora c'è la collezione poi poi mi vanno all'estero sefone o un malasciallo dalla finanza dice sapete che facete facete per trovare un creprolo come ha chiamato guarda ha avuto un ponte che io mi faccio la piglia e poi c'è un pezzo a combri con niente io gli ho detto ma comandante che stai dicendo quando io ci dico che c'è ai bombandati lei andiamo a fare la piglia e noi non abbiamo niente bomba non avevamo bomba non ne usavamo noi che prendiamo il pulpo cosa hanno detto che il pulpo ci stiamo andando a spadare e lei mi dice queste cose chissà è pure a franza che fa che fa le domande all'onate che un loco rinde se stai comandante va bene poi che non la capitiamo ci riusciamo e va a prendere insomma che stai domande di fare tu e noi ne buscavano poi ne buscavano poi la saluina ma io tanto prendiamo un pulpo tanto c'era un pulpo perché se c'è chi la quattro e se stai perché c'è chi le domande all'onse che ho fredi poi a spazzare grazie 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 grazie